Questa volta niente beffa finale è un punto in classifica, ma la Virtus Francavilla non può ritenersi soddisfatta. A conti fatti, nello 0-0 contro la Turris, pesa come un macinio a rigore sbagliato d'artistico, ma ciò non evita proclami sull'opaca prova della squadra, ora sempre più in bilico, in zona play-out. Nel giorno di San Valentino, i biancazzurri vogliono regalare una nuorte per cuori forti ai propri tifosi, in uno scontro diretto di fatti da 6 punti. Occhiuzzi ritrova Montiagudo e Molnali in difesa, ma in campo ci va solo il primo. A centrocampo, la ripi play con Mac e Di Marco al suo fianco, in attacco la sorpresa aneglia, reduce dall'illusorio gol del palio a Giuliano. 3 punti in più e maggiori sorrisi in casa Turris, meno se si tiene conto dell'infermeria. Menichini deve rinunciare tra gli altri a Maniero, Nicolao e Cum, modulo a specchio, con Gialo incaricato nel dare profondità in attacco, in difesa spazio al nipote d'arte Maestrelli. Al secondo minuto, su situazione da corne, né artistico né dutu riescono in fila dalle spalle di Marcone. I corallini si fanno nota dal diciannovesimo, Gialo scatta in posizione sospetta, evita Montiagudo con la finta e col destro incrociare sfioda la prodezza, palla di poco alta. Al trentaduesimo, Laribi testa la soluzione da fermo, ma nel suo destro non c'è né forza né precisione. Facile lettura per Marcone. Dopo la perla col foggia, prova a concedere il bis d'Auria, ma la battuta dell'attaccante della Turris è abbondantemente alta. A chiudere un primo tempo da sbadilli, questa percussione di Carella, che si concretizza in un tiro fin troppo strozzato. La ripresa si apre subito col botto. Artistico, col corpo, si mette tra panelli e il pallone e viene tamponato. Calcio di rigore. Dal dischetto, lo stesso artistico, insegue il gol numero 10 del campionato, ma Marcone è insuperabile dal dischetto e il portiere intuisce e neutralizza il terzo rigore stagionale su quattro affrontati. Un autentico muro. La paura di perdere torna a prendere il sopravvento e in casa Virtus sale anche il nervosismo, come quello manifestato dalla Libi nei confronti di Occhiuzzi dopo il cambio con Risolo. Menichini cambia le punte inserendo Siega e De Felice. Non succederà praticamente nulla fino all'ottantacinquesimo. Franco, su punizione, mette alla prova le abilità di Branduani, respinta provvidenziale in corner. Un minuto dopo, artistico, prova a farsi perdonare, ma non è serata. Girata debole, comoda tra le braccia di Marcone. Non accade altro. Un operaia turis, collezione secondo clean sheet consecutivo e torna in campagna con un punto prezioso. Per il Francavilla, un pareggio che sa di occasione sprecata. Nel prossimo turno, i uomini di Occhiuzzi faranno visita al Sorrento.